Era luglio quando abbiamo incontrato l'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta, Marcello Frangiamone, per discutere del parcheggio di via Medaglie d'Oro e delle lamentele di alcuni cittadini sulla modalità di erogazione del resto. Una volta effettuato il pagamento, infatti, gli utenti si ritrovavano con una ricevuta al posto del resto dovuto, con la quale riscuotere la somma una volta recatisi presso l'ufficio. Adesso si torna a parlare del parcheggio, ma questa volta di un'altra segnalazione che riguarda due piani più bassi ai quali si accede dall'altro ingresso del parcheggio e sulla possibilità di migliorarne l'illuminazione, soprattutto nelle ore serali. È un unico parcheggio però costituito da due ambienti completamente separati tra di loro. C'è un parcheggio che si trova nella parte seminterrata e poi la parte rimanente del parcheggio che è piano terra, primo e secondo, quello che è alla luce del sole, l'ultimo piano. Questi due piani non sono mai stati messi in collegamento e quindi vivono, pur essendo tutti gestiti dalla stessa azienda, vivono un po' separatamente. Attualmente il bando per la gestione dell'estrice blu, dei parcheggi a pagamento che comprendeva anche il medaglio d'oro, è scaduto, siamo in fase di proroga perché si sta provvedendo alla redazione del nuovo bando per la gestione che dovrà andare in gara entro fine anno. A parte tutte le azioni previste dal regolamento, quindi sarà mantenuta comunque il pagamento, saranno valutati nuovi metodi di pagamento, quindi anche dare la possibilità di pagare con carta di credito o con altri mezzi elettronici moderni, c'è la volontà di fare in modo che il prossimo gestore abbia il compito, il dovere di collegare questi due parcheggi di via di meglio d'oro, in modo tale da farne uno unico, quindi con un unico accesso e dare la possibilità a chi lo utilizza di provare, di individuare il posto in tutto l'intero parcheggio. Capita spesso che, infatti, molte persone non sapendo la differenza tra i due parcheggi, magari riempie il parcheggio superiore, pensa che non ci sono più posti, ma invece in realtà magari sotto ci sono anche dei posti. Chiaro che anche la parte relativa all'illuminazione, alla migliore efficienza dell'intero parcheggio farà parte integrante del bando stesso.